dallo stadio a seneto in agrigento un saluto da davide sardo amici sportivi benvenuti alla partitissima acragas misilmeri decima di ritorno in eccellenza girone a in palio punti fondamentali per il secondo posto si affrontano la seconda della classe l'acragas ed il misilmeri terzo in classifica dirige il match il signor vazzano di catania squadre in campo per il sorteggio le formazioni iniziamo con il misilmeri di salvatore utro in campo con zummo tra i pali il migliore in campo nel match di andata finito 1 a 1 miceli gianni livigni bringas cosentino giuliano mendola cerniglia manfrè con cialdi tiscione questi due ultimi hanno giocato con la maglia dell'acragas l'acragas di mister nicolo terranova in porta a ruscia poi baio tarantino lavardera cipolla tuniz prestia strano pavisic finessi maio rano è la stessa formazione che recentemente ha affrontato qui in casa l'esseneto il castellammare e ha vinto per 1 a 0 buona affluenza di pubblico sugli spalti grazie anche alle tante iniziative organizzate in settimana dalla dirigenza bianco azzurra in collaborazione con il settore marketing acragas in maglia bianco azzurra mentre il misilmer indossa la consueta casacca bianco rossa la partita promette spettacolo e tante tante emozioni ci siamo amici sportivi è tutto pronto per il calcio d'inizio affidato al misilmeri che in avanti presenta tre pezzi da 90 manfre filippo tiscione pierino concialdi fischietta in bocca per vazzano di catania inizia adesso la partitissima acragas misilmeri con la squadra di utro che manda subito il pallone in avanti a cercare la punta concialdi favola guardia il terzino tarantino pavisic pallone a destra per prestia attenzione prestia punta la porta avversaria si al centro prestia palla per strano la conclusione la deviazione palla ancora viva per l'acragas la vorderà sul fondo prima palla gol per l'acragas al secondo minuto di gioco ottavo sul cronometro punizione per il misilmeri concialdi proverà a mettere palla nel mucchio vanno a saltare anche i difensori centrali giuliano e cosentino il fischio di vazzano parte concialdi palla sul secondo palo a ruscia senza problemi tiscione contro prestia si va da bringas l'apertura a destra per concialdi chirurgica di bringas concialdi punta tarantino concialdi serie di finte concialdi col destro cross basso attenzione chance per il misilmeri cerniglia la conclusione palla sul fondo brivido acragas occasione misilmeri al decimo con cerniglia punizione per l'acragas quindicesimo minuto di gioco prestia sul pallone arriva anche finessi in aria anche i difensori centrali tuniz e cipolla due in barriera per il misilmeri tutto pronto per la punizione acragas zero al zero il punteggio prestia un tiro in porta la palla è lì attenzione zummo salva il misilmeri ha cercato il primo palo prestia la super parata di zummo ancora protagonista come all'andata concialdi ancora il numero 10 del misilmeri il cambio gioco vertiscione bene baio poi prestia se ne va se ne va su gianni livigni mette il turbo prestia servito baio a destra attacca l'acragas il cross di baio per finessi colpo di testa per prestia la palla filtra poi concialdi fa il difensore è un assedio alla porta del misilmeri concialdi spazza via la sfera tuniz giganteggia su manfrè ancora manfrè protegge il pallone l'attaccante del misilmeri tuniz glielo soffia la vardera insiste l'acragas che sembra avere un altro passo rispetto al misilmeri finessi la conclusione palla sul fondo che è acragas prestia pallone per la vardera 45esimo baio attenzione chance acragas il cross di baio a rimorchio pavisic rigore netto il tocco di un difensore con pavisic che ha anticipato nettamente l'avversario sotto lo sguardo del direttore di gara calcio di rigore per i bianco-azzurri un'azione fantastica dell'acragas con il cross al bacio di baio a rimorchio pavisic anticipa tutti e poi viene atterrato dal difensore del misilmeri sarà pavisic a battere il calcio di rigore ha già il pallone tra le mani è tutto pronto per il penalty acragas pavisic contro zumo 46 sul cronometro fischia l'arbitro parte pavisic la finta pavisic santiago non si ferma più altro gol del bomber bianco-azzurro l'argentino l'acragas spacca la partita con santiago pavisic e festa all'esseneto per il vantaggio meritato dell'acragas che ha sempre fatto la partita eccolo qui santiago pavisic 1-0 per l'acragas 47 sul cronometro fischietta in bocca per l'arbitro vazzaro di catania rimessa con le mani per l'acragas tarantino finisce qui il primo tempo lo porta a casa l'acragas avanti 1-0 gol di pavisic su calcio di rigore rigore che si è procurato lo stesso attaccante argentino al minuto 46 1-0 per l'acragas contro il misilmeri amici sportivi bentornati allo stadio esseneto di agrigento sta per ricominciare il big match della decima di ritorno in eccellenza girone a acragas misilmeri si ricomincia dal vantaggio bianco azzurro 1-0 il punteggio fischietta in bocca per vazzano di catania uno dei migliori arbitri della categoria finesse è pronto a calciare il primo pallone si riparte ricomincia la sfida acragas misilmeri la vardera la palla filtra poi prestia si accentra la conclusione di prestia zummo parata di zummo sul tiro di prestia che ha mirato l'angolino ancora una parata super di zummo angolo acragas tutto questo al secondo minuto con le mani l'acragas terzo minuto della ripresa tarantino si muove ai finesti eccolo servito tarantino il cross palla alta per pavisic pavisic zummo la toglie da dentro la porta acragas vicino al 2-0 pavisic è andato in cielo ha preso l'ascensore ma zummo ha detto di no con Cialdi Tiscione quindicesimo la ripresa Tiscione punta tarantino entra nella Tiscione in zona tiro Tiscione attenzione al suo sinistro Tiscione non va palla alta sopra la traversa buona azione del Misilmeri che ha spierato il pareggio con Tiscione punizione per il Misilmeri minuto 17 della ripresa con Cialdi sul pallone il cross di Concialdi di testa attenzione di Giuseppe fuori gioco rete annullata al Misilmeri si è alzata nel largo anticipo la banderina dell'assistente dell'arbitro Maiorano servito Prestia Prestia contro Gianni Livigni il cross morbido Pavisic non riesce a colpire il pallone Zummo fa buona guardia Prestia mette il turbo Prestia atterrato da Cerniglia attenzione Cerniglia già monito ha il giallo in mano il direttore di gara rosso per Cerniglia Misilmeri in dieci uomini era stato monito nel primo tempo nelle fasi del calcio di rigore assegnato all'Acracaz adesso il secondo giallo per aver atterrato Prestia Misilmeri in dieci espulso Cerniglia tutto questo al ventottesimo della ripresa punizione Acaragaz sul pallone Maiorano parte il numero undici palla in aria attenzione Joboa spara in curva trentaduesimo angolo per l'Acracaz sotto la sud Prestia dalla banderina chiama lo schema Prestia a parte Prestia Zumbo la tiene lì Tiscione per la rimessa con le mani trentottesimo Gianni Livigni Cipolla poi strano per Prestia Gianni Livigni scivolata poi ancora Gianni Livigni e poi Concialdi perde il pallone sul pressing di Maiorano e allora strano alza lo sguardo servito a sinistra Tarantino che ha spazio per avanzare alza lo sguardo anche Tarantino non c'è in aria Pavisic allora gioca il pallone l'Acracaz strano Tarantino Maiorano Tarantino butta via il pallone l'Acracaz e allora attenzione Di Giuseppe non c'è fuorigioco Di Giuseppe punta la porta avversaria entra in aria Di Giuseppe Arusha la tiene lì punizione per il Misilmeri si continua a giocare all'esseneto di Agrigento siamo in pieno recupero va a saltare anche il portiere Zummo poi si ferma ci ripensa allora Concialdi palla lunga cercare le punte Arusha in uscita con i pugni e poi attenzione Giovanni Taormina il portiere fuori dai pali Taormina non calcia ma supera due avversari poi è libero Prestia attenzione Prestia Prestia fuorigioco fischiato a Prestia dubbio Arusha al rilancio lungo finisce qui l'Acracaz vince lo scontro per il secondo posto sul Misilmeri per 1 a 0 decide il rigore realizzato da Pavisic al 46esimo del primo tempo vittoria meritata per l'Acracaz che ha sempre fatto la partita ha giocato anche un buon calcio ha aspirato più volte il secondo gol Misilmeri che comunque esce a testa alta dal confronto dell'esseneto mercoledì la sfida contro la capolista Canicatti per l'Acracaz ma quello che più conta è la vittoria ottenuta oggi contro il Misilmeri Acracaz 1 Misilmeri 0 è tutto dall'esseneto un saluto da Davide Sardo a risentirci a rispondi a rispondi a rispondi a rispondi a rispondi